L'anno scorso abbiamo inaugurato quella a Incisa vicino al campo sportivo, ora a Matassino. Sistemeremo appena saranno finiti i lavori qui anche quella già esistente a Figline in Via Roma. È un modo per far correre in libertà ma anche in sicurezza i nostri amici a quattro zampe. Siamo in un territorio dove è vicino all'aperta campagna, però possiamo anche realizzare queste aree nei centri abitati perché non sempre è possibile prendere la macchina e portarli in campagna. Vicino a casa, qui a Matassino, ormai siamo al completamento dei lavori, la inaugureremo quanto prima.